Amici, Federica in lacrime canta tango, si blocca commuove la giuria, la reazione di Tananai. Lacrime ad amici. La prima puntata del serale del talent show di Canale 5 si è conclusa con l'eliminazione di Megan e di NDG. Durante il ballottaggio finale, NDG è andato in sfida con Federica che è riuscita a salvarsi con un'esibizione che ha incantato il pubblico in studio e a casa. La cantante, appartenente alla squadra di Arisa, si è esibita sulle note di tango il brano Sanremese di Tananai riuscendo a fatica a completare l'esibizione a causa della forte commozione, e scoppiate in lacrime. Non è stato un momento semplice per Federica. La cantante, infatti, non è riuscita a trattenere le lacrime e a metà canzone ha tentato di interrompere la performance perché la troppa emozione le impediva di proseguire con il brano. Si è fermata per alcuni secondi, riuscendo però a riprendere in mano l'esibizione e a portarla a termine con grande maestria e con la voce rotta dal pianto. Ad emozionarsi insieme alla cantante anche il giudice Giuseppe Gioffre che è scoppiato in lacrime notando la difficoltà di Federica. Il giurato ha ricevuto sostegno da Maria De Filippi che è corsa ad abbracciarlo. La forte emozione di Federica è arrivata dritta al cuore dell'autore del brano di tango. Tananai. Il cantante, classificatusi quinto al Festival di Sanremo, ha condiviso il video dell'esibizione e con un cinguettio ha voluto congratularsi con la cantante per l'esibizione impeccabile nonostante le difficoltà, grazie Federica, mi hai fatto emozionare tanto. Secondo quanto scrivono gli utenti sui social, la cantante ha avuto un crollo emotivo durante l'esibizione non per il rischio e la paura di abbandonare la scuola di amici ma per problemi di cuore, Federica e Piccolo Gioffre altro concorrente dell'attuale edizione di Amici formano una coppia. I due pare abbiano smesso di frequentarsi anche se i pomeridiani del talent show non era stato annunciato e la rottura della loro storia d'amore ha fatto commuovere la cantante durante l'emozionante brano che parla di una storia d'amore vissuta a distanza. a intelesi textul suno pe Irina Nistor va intalniti in tristor la zero grade viscol nu tac nici stins mort o sa mauzi prin sol transpir hip-a prin pori bile mari zintor ca stii ca tu ma patrimiti ciocanul mare inspre cer si dau jos scarul mare ha ha grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti